Ciao ragazzi, sono Benny, oggi volevo parlarvi della linea Luxina, in questo caso della pasta modeling effetto opaco, adatta a tutte quelle persone che non amano diciamo avere tra virgolette il prodotto in testa, cioè quel prodotto che vi tira via l'effetto appena lavato, quindi quell'effetto olioso che tutti non vogliono, ma allo stesso tempo vi lascia la capigliatura libera di passare anche le mani tra i capelli. Vi spiego un attimino come va utilizzata, diciamo che le ceri in genere vanno applicate tutte in piccole dosi e magari come vi ho detto anche nei video precedenti fare più passaggi, quindi prendiamo delle piccole quantitative di prodotto, massaggiamo sempre per uniformare lo strato sulla mano e poi li passiamo attraverso la capigliatura. Date proprio bene a moda la rallice anche, riprendete un pochino di prodotto e lo ridate. Questa pasta è molto molto valida anche perché la profumazione ha un effetto molto delicato, legnoso e piacevole anche. Cosa vi devo dire ragazzi? È stato un piacere, ci vediamo al prossimo video.